Buongiorno a tutti, siamo qui nello studio di Valutluna dove sto ultimando la fase di editing, di messaggio e di mastering di Two Countries, One Art. Two Countries, One Art è forse il disco più importante che io abbia mai concepito e prodotto, sicuramente è il più importante di questo 2015 che è l'anno del ventennale di Valutluna. Si tratta di una grande operazione che coinvolge una grande orchestra sinfonica, l'orchestra del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, quindi un'orchestra giovanile, ragazzi con un'età media di meno di vent'anni, due grandi interpreti internazionali, due cantanti internazionali come Rosella Caporale e Sherry Porter, uno straordinario direttore che è Giuliano Medeossi, ma soprattutto un deus ex machina che è Simone Tonin, Simone Tonin che è l'arrangiatore che ha, partendo da zero e sul mio input, realizzato appunto gli arrangiamenti per grande orchestra di alcuni dei più famosi e celebrati classici della canzone tradizionale popolare americana e della grande tradizione della canzone italiana, il che vuol dire ovviamente la canzone napoletana. Come capite è veramente difficile sintetizzare questo progetto in poche parole. Sicuramente è, ripeto, un progetto di amplissimo respiro che anche si aggancia alla mia da sempre attenta preoccupazione di valorizzare i giovani, ma valorizzarli in un modo un po' più significativo di come purtroppo in Italia succede ormai da molti anni a questa parte. Ma a questo punto senza dubbio chiamo in gioco Simone Tonin che è qui a fianco a me e gli faccio la più banale delle domande, ovvero come è stato il suo stato d'animo come ha recepito questo tren in corsa che l'ha travolto circa nove mesi fa proponendogli un'impresa artistica e professionale che tranquillamente potrebbe far tremare le vene nei polsi del più scaffato dei professionisti. Diciamo che ha provato tanta curiosità quando mi è stato proposto il progetto. inizialmente abbiamo inquadrato la cosa su, appunto, come ha già detto Marco, una parte italiana e una parte americana. La parte americana è articolata con delle canzoni che vanno dai country piuttosto che agli anni americani, mentre la parte italiana sono cinque tradizionali canzoni napoletane. È stato un lavoro molto complesso in termini di studio prima di tutto perché grazie all'aiuto di Marco, all'aiuto di Rosella e anche di Sheryl Porter mi sono fiondato sullo studio delle singole canzoni e ho cercato di valorizzare l'aspetto italiano con quelli che sono stati i maestri del novecento, Rota, Ravel, in termini di sonorità, ma che fossero da contorno al fine di far risaltare la voce. Per quanto riguarda la parte americana ho attuato un lavoro di tipo diverso, che è stato quello di rendere omaggio alle grandi sonorità americane, soprattutto sonorità che si avvicinano alla musica da film e a quelli invece che sono stati i maestri del novecento come Berstein, Gershwin, piuttosto che Copland stesso che l'abbiamo inserito in programma. Ho provato tantissima curiosità all'inizio, è stato un durissimo lavoro durato un mese e mezzo, quello degli arrangiamenti e poi grande stupore quando abbiamo registrato con l'orchestra del conservatorio di Padova, proprio perché ho visto che i ragazzi stessi impiegati nella registrazione hanno messo anima e corpo in questo progetto. Sono piaciuti molto gli arrangiamenti e ho provato anche gioia nel vedere che la fiducia, nel non aver tradito la fiducia di Marco Lincetto e di Leopoldo Armellini, che sono state le due persone che mi hanno inserito nel progetto. Bene, io direi che questa voleva essere un'anteprima, quindi ci fermiamo qui. Il disco sarà pronto alla fine di settembre e avremo ovviamente modo nelle settimane e nei mesi successivi di sviscerare con grande ricchezza di particolari ogni dettaglio di questa grande e importante operazione artistica e musicale.